26.000 metri quadrati, tanto è vasta l'area che stamattina è stata posta sotto sequestro a pianura in via Pignatiello. La zona è accatastata con destinazione agricola, è sottoposta a diversi vincoli e si trova in una zona di interesse archeologico a protezione integrale, ma era stata prima lottizzata e poi venduta come terreno edificabile a diversi soggetti. Sull'area sono state costruite case e centri commerciali con strade di accesso e collegamento, attività industriali e commerciali con un vasto terrazzamento chiuso come deposito e perfino un istituto alberghiero in un istituto comprensivo con scuola di infanzia, elementari e media, ai quali è stato permesso di portare comunque a termine l'anno scolastico. Inoltre nell'area erano ancora in corso ulteriori lavori di sbancamento, come quelli che hanno fatto già realizzare negli anni scorsi numerose opere di urbanizzazione, muri di contenimento, strade e piazzali. L'operazione è stata decisa dal sostituto procuratore Lucia Esposito, coordinata dal procuratore aggiunto Nuzio Fragliasso, è realizzata in seguito alle indagini sull'imponente lottizzazione abusiva condotte dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale e dalla Compagnia dei Carabinieri di Bagnoli, coordinata dal capitano Federico Scarabello, impegnando un totale di 70 uomini tra Polizia Municipale e Carabinieri. Le conseguenze sono che è stato emesso un provvedimento da parte del GIP per un sequestro preventivo in tutte le attività, un'ambia indagine che parte dagli anni precedenti. Abbiamo organizzato il tutto in brevissimo tempo, impiegando una settantina di uomini tra Polizia Municipale e Carabinieri.